Musica Ciao a tutti del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi questo è un breve vlog come potete vedere dal minutaggio dura veramente poco Quindi vi invito a guardarlo tutto e a supportarlo con un like e un commento E condividerlo perché è molto importante Quindi deve arrivare a più gente possibile in modo che riesca appunto a capire una cosa molto molto importante Quindi mi raccomando like e condivisione L'argomento del video riguarda una serie che non sta andando molto bene E vorrei capire perché e soprattutto vorrei capire se piuttosto non è meglio sostituirla con qualcos'altro Vi ripeto vi invito a guardare tutto il video perché dura poco, non vi costa niente E mi serve appunto per capire se devo fare una cosa oppure un'altra Scusate ma oggi non ho voce La serie di cui sto parlando è la Mad Pack perché non sta andando molto bene Anzi va piuttosto male e non so perché perché comunque quella serie l'ho strutturata in maniera un po' particolare Con tutta una storia Essendo la storia molto bella E anche già pronta Io non voglio appunto buttare tutto quanto perché non mi sembra affatto sensato Perché l'ho strutturata, ho preparato le cose E perché buttare qualcosa di già pronto quando posso riutilizzarlo per qualcosa che invece può andare meglio Quindi anziché buttare tempo e risorse in qualcosa che tanto non volete guardare Vi faccio una domanda Preferite che sostituisca quella serie con qualcos'altro? E se sì con cosa? Scrivetemi nei commenti se vi piacerebbe appunto che il prossimo episodio fosse un episodio finale Nel quale batto l'ultimo boss della Candy Craft Che è la mod che sto sviluppando adesso E poi magari faccio esplodere tutto Quindi non la lascio così alla cavolo di cane Ma appunto la concludo in questa maniera un po' particolare Trovo un modo per concluderla E poi dopo averla conclusa in questo modo particolare Che se volete potete anche consigliarmi voi Magari faccio qualcos'altro Come ad esempio cominciare una Charlie Pack Che cos'è una Charlie Pack? È un mod pack completamente fatto da me Sistemato da me In modo che io possa appunto portarvi qualcosa di più personalizzato Oppure se avete voi dei suggerimenti su qualche serie carina da portare Pacchetti moddati o anche no se vi piace qualcos'altro Ditemelo nei commenti Anche se a me piace l'idea di fare una Charlie Pack Dove appunto invento una storia Che può essere anche una storia simile all'altra Però la faccio un po' più elaborata Un po' più convolgente per voi E metto delle mod che vi piacciono Me le consigliate voi nei commenti Io appunto costruisco questa Charlie Pack Che sarebbe tipo una Javi Pack Ma fatta meglio e più elaborata E poi Charlie Pack perché il nome Javi Pack ormai Ci ha un po' rotto le scatole Quindi ragazzi ditemi voi nei commenti Volete che interrompa la Mad Pack con un episodio finale Che termini tutto E ricominci una Charlie Pack o una cosa del genere Con delle mod fatte da me Oppure che faccia qualcos'altro Ditemi voi nei commenti Lascio completamente a voi la scelta Metterò qua in alto un sondaggio Che appunto ci saranno diverse opzioni E anche nei commenti magari vi lascio uno stropolo Qualcosa del genere E voi potete votare come vi pare Dicendomi appunto quello che volete In ogni caso vi invito tutti a scaricare Telegram Perché ho un canale Telegram Che potete trovare nei commenti Potete unirvi E lì appunto farò un ulteriore sondaggio Che riguarda le mod Quindi lì potrete consigliarmi le mod E tutto quanto E non solo Quindi unitevi al canale Telegram Anche perché lì lascio delle esclusive Che soltanto chi è al canale Telegram Può accedere Quindi signori Vi ho detto tutto Vi lascio la scelta Finire la Mad Pack Non finire la Mad Pack Terminarla in un episodio epico E poi cominciare un altro pack Costruito da me Chiamato Charlie Pack O qualcosa del genere Oppure una mappa O una serie che mi suggerite voi O qualsiasi cosa vi vogliate Basta che me lo dite E io farò quello che piace a voi Ma che piace anche a me Quindi vediamo insieme Cosa può piacere a tutti quanti Senza che io appunto Deba sprecare tempo Per qualcosa che non vi piace Perché visto che ne ho già poco di tempo Non voglio buttare via il tempo Per qualcosa che tanto non volete guardare Quindi il vlog è finito Come vi ho detto Era molto breve Mi raccomando Scrivetevi nei commenti Cosa volete fare Vi lascio completa scelta Siete padroni di voi stessi E niente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao